E' una giornata importante dove noi oggi diamo riconoscimento a 147 insigniti della Stella al Merito, quindi i neomaestri del lavoro che con la propria laboriosità hanno contribuito anche al progresso di questo territorio. Quindi ritengo che sia importante dare anche un segnale ai giovani che sicuramente in questo momento sono i più penalizzati da un punto di vista occupazionale e quindi un richiamo anche ai valori fondamentali che i neomaestri del lavoro devono trasmettere alle giovani generazioni, cioè la passione, la determinazione, tutto ciò che comporta essere parte di una società. Al centro la sicurezza, proprio poche settimane fa avete siglato proprio in prefettura un accordo su questo, è già stato attuato qualcosa? Sì, adesso è iniziato già il monitoraggio, quello ritengo che sia un protocollo molto importante perché ha visto tutte le istituzioni fare rete come dovrebbe essere un po' per tutte le problematiche del territorio, le amministrazioni dovrebbero trovarsi insieme come si sono trovate con un unico intento per cercare di evitare il più possibile che eventi tragici come quelli dell'Amina o altri ancora che ne sono avvenuti, perché nel 2017, io lo dicevo anche, abbiamo avuto un numero più elevato rispetto all'anno precedente, quindi questi episodi gravissimi non si verifichano più. Per quanto riguarda invece il tema della sicurezza ci sono state moltissime polemiche, anche politiche, la Lega addirittura ha chiesto al governo di sostituirla, lei pensa che adesso ci sarà un cambiamento visibile agli occhi dei cittadini o non ce n'è bisogno? Guardi, noi per la nostra attività è quotidiana, quindi noi garantiamo quella che è la sicurezza del territorio, certamente diciamo quelle che sono le polemiche, io su questo non entro anche perché secondo me la questione della sicurezza è una questione complessa che va affrontata insieme con le istituzioni e una logica di portare anche a un concetto di sicurezza partecipata. D'altra parte quello che è avvenuto è stato un fatto grave, ma quello che ripetiamo sempre una metropoli a criminalità zero non esiste ancora al mondo e quindi noi siamo nei numeri e quelli che ovviamente segnaliamo, sperando che ovviamente di poter fare sempre di più e sempre meglio. Posso chiedere cosa intende per sicurezza partecipata, nel senso sicurezza partecipata dai cittadini? Anche sicurezza partecipata anche dai cittadini perché la sicurezza è un bene di tutti, la qualità della vita dipende anche dalla sicurezza e quindi è giusto che ci sia una partecipazione da parte di tutti. Grazie